Spettacolo ieri a Castellabate con la tappa di triathlon giovanile del circuito sud della federazione italiana triathlon. Più di 100 partecipanti tra i 7 e i 17 anni giunti nel Cilento da diverse regioni del sud Italia si sono sfidati e divertiti in una cornice unica come quella del paese di Benvenuti al Sud. Sì, sicuramente siamo orgogliosi di questa bella giornata di sport che si sta avendo qui a Castellabate, in particolare sulla spiaggia di Lago. Quindi davvero una giornata all'insieme dello sport, questi ragazzi veramente si stanno divertendo in maniera esemplare, vedo che stanno facendo delle cose molto molto belle. Quindi noi siamo contentissimi e felici di ospitare queste manifestazioni. In tal senso voglio ringraziare le organizzazioni che hanno consentito questa cosa, quindi sia la federazione italiana di triathlon, l'associazione Aurora di Battipaia che si sta impegnando molto su questa cosa, nonché l'associazione Punta Tresino qua a Castellabate che sta dando un supporto insieme alla struttura Lido da Pinge dove siamo ospiti in questo momento. Quindi attività che ben vengono, noi siamo apertissimi e siamo sempre disponibili a far sì che queste attività vengono puntualmente fatte su Castellabate. Approfitto per dire che il 5 giugno prossimo avremo una giornata dello sport qui a Castellabate col CONI, quindi verranno le rappresentanze regionali del CONI e quindi avremo una giornata molto intensa, molto importante che stiamo programmando. Quindi ne approfitto anche per dare questa notizia in anticipo. Diciamo che con il triathlon andiamo a coronare un po' tutte le attività sportive nautiche organizzate nell'area marina protetta di Santa Maria di Castellabate. Sono 20 anni che organizziamo eventi sportivi qua a Castellabate, il nuoto, la palla a nuoto, i raduni di canoa e kayak. Oggi abbiamo chiuso il cerchio con il triathlon, quindi tre discipline in una. Abbiamo la fortuna di vivere e di organizzare eventi in uno scenario naturale che ci permette di organizzare tutte queste attività, come il nuoto, come la palla a nuoto, come i kayak. E oggi abbiamo visto che questa location si presta molto bene per il triathlon. Grazie alla cittadinanza, all'amministrazione, alle attività locali che ci hanno supportato come l'Ido dal Pincio, i ristoratori che hanno tollerato la nostra presenza, malgrado i fastidi per le varie chiusure che possiamo aver dato. La presenza di quasi 100 ragazzi dai 17 fino ai 6 anni credo che sia tonificante sia per il territorio che per il movimento sportivo in generale. Perché non si può fare altro che ammirare questi ragazzini, entrare in acqua, correre. Se voi oggi aveste veduto questi bambini sulla spiaggia incitati dalle persone in costume, che erano emozionati nel vedere questi bimbi, nipoti, figli gareggiare.